Per noi la Coppa è una cosa già ormai passata, non ci pensiamo più, ora ci interessa il campionato, abbiamo ripreso bene, direi con una bella vittoria meritata e con un risultato anche direi abbastanza largo. Un Verona che è anche piaciuto per lunghi sprazi di gara nonostante le tante essenze. Sì, le essenze sono molte, però direi che la squadra ha una sua fisionomia, chi è entrato ha fatto bene, per cui direi che è stato un Verona divertente, che ha giocato in velocità, ha fatto un bel po' di gol e direi che è stata una buona partita. Una Coppa inedita in vetta al campionato, con il Verona c'è questo Mozzanica che ha rifilato una quaterna al Brescia. Il Brescia potrebbe aver pagato anche le fatiche di Coppa, magari l'entusiasmo ok, però comunque il Mozzanica è una grande squadra, è stata costruita per vincere il campionato e sicuramente sarà protagonista fino alla fine. Speriamo di esserci anche noi e speriamo che la classifica più o meno rimanga questa fino alla fine. Sabato a Bari Sabato a Bari ancora molte assenze, una partita difficile, una trasferta insidiosa, dovremmo fare risultato anche là per mantenere la vetta. Sì, via, si temeva un po' di stanchezza dopo la trasferta di Champions, invece è stato un 5-0 limpido e anche un Verona che è bello da vedere per lunghi tratti di gara. Sì, in realtà penso che il ritmo della Champions ti dia sempre qualcosina in più, quindi quando arrivi in campionato è vero che ci può essere la stanchezza ma sei comunque abituato a ritmi più elevati e quindi riesci a riportarli in partite come queste. Credo che oggi comunque il divario fra le due squadre si sia visto nettamente con questi cinque gol che potevano comunque essere di più. Loro sono sicuramente una buona squadra, cioè una squadra giovane con buona individualità ma noi nonostante le assenze siamo riusciti a fare una discreta partita. Assieme al Verona l'Invetta è rimasto il Mozzanica che ha rifilato addirittura un 4-0 al Brescia. Sì, forse sinceramente io non mi aspettavo un risultato così netto, una sconfitta così netta da parte del Brescia. Certo è che comunque anche il Mozzanica si candida comunque per questa lotta allo Scudetto e sarà secondo me un campionato avvincente ed equilibrato al vertice. Sabato a Bari non sarà certamente una passeggiata? No, non sarà sicuramente una partita facile perché comunque è una trasferta appunto abbastanza complicata, una squadra che in casa credo giochi anche abbastanza bene, difficile da affrontare però in settimana lavoreremo appunto per riuscire a portare a casa punti importanti anche sabato prossimo. Melania, che tripletta ha oggi? Beh sì, sono contenta dei gol, è sempre bello segnare per un attaccante è dovere. Però diciamo che la squadra oggi ha meritato questa vittoria nonostante magari c'era un velo di stanchezza dalla partita di Champions però credo che l'abbiamo affrontata con la testa giusta. Adesso si va a Bari ancora con tante assenze però è un Verona che la vetta non vuole mollarla? Sicuramente sì, purtroppo abbiamo questa sfortuna che ci accerchia però comunque penso che in questo gruppo è consapevole che tutte sono importanti quindi noi sicuramente da qui fino alla fine del campionato affronteremo ogni partita per portarla a casa quindi sicuramente non ci fermeranno gli infortuni. Grazie.